Buonasera a tutti. Continua la fase instabile sulla nostra penisola anche oggi. Dopo una mattinata piuttosto soleggiata fatto seguito il fiorire di celle temporalesche lungo la dorsale appenninica e sulle Alpi. Intanto, come si può notare dall'immagine del satellite, l'impulso freddo nord-atlantico sta iniziando ad interessare il Mediterraneo occidentale, puntando verso le coste del Nord Africa. Sarà proprio questo fronte perturbato che a partire dalla notte di sabato, ma in modo più intenso domenica, interesserà le regioni del centro-sud per poi lunedì spingersi fin verso le regioni settentrionali. La fase perturbata di domenica e lunedì farà da richiamo a metà della settimana prossima ad un nuovo impulso molto freddo dal nord Europa che, oltre a causare una nuova fase di maltempo, favorirà una discesa sensibile delle temperature. Vista la distanza temporale, ne riparleremo meglio ad inizio settimana prossima. Andiamo a vedere insieme invece adesso, con l'aiuto della grafica, cosa si prevede per domani, sabato 25 maggio, in Abruzzo. Tempo che continua a rimanere instabile. Anche domani sarà soleggiato al mattino, con solita nuvolosità sui rilievi dalla tarda mattinata, e fenomeni temporali schipomeridiani, che interesseranno i monti e le zone pedemontane. Nella notte, tra sabato e domenica, arriveranno i primi corpi nuvolosi del fronte perturbato, che saranno annunciatori del maltempo, protagonista assoluto della nostra domenica. Ventilazione che continuerà ad essere debole, di direzione variabile, e mari sempre calmi. Nulla di nuovo anche dal punto di vista termico, temperature che rimarranno stazionarie, comprese tra 7 e 13 gradi per ciò che riguarda le minime, e tra 20 e 23 gradi per ciò che riguarda le massime. È tutto per lo spazio meteo, una buona serata a voi tutti da Marco. Grazie per la visione!